In ripresa l'export abruzzese nel 2023 con 1 miliardo e 209 milioni di euro, ma non abbastanza a guardare i dati di 5 anni fa. Lo scorso anno infatti l'incremento è stato del 13,6% che, a fronte di una crescita nazionale pressoché nulla, ha permesso all'Abruzzo di rimanere al quarto posto della graduatoria nazionale. Tuttavia si guarda ad un arco di tempo più lungo quello che va dal 2018 al 2023. L'export abruzzese è cresciuto solo del 14,9%, ovvero la metà di quello nazionale, più 34,6%, piazzando la regione al terzo-ultimo posto della graduatoria nazionale, prima solamente di Val d'Aosta e Basilicata. A rivelarlo è lo studio dell'economista sulmonese Aldo Ronci per conto di CNA Artigiani Imprenditori d'Italia Abruzzo, su dati dell'Istat e di Coeweb. Nel 2023 il miglior contributo ad accrescere il valore delle esportazioni abruzzesi l'hanno fornito i due settori storicamente trainanti, ossia mezzi di trasporto e farmaceutico, che hanno alle spalle grandi insediamenti di multinazionali nell'area della Val di Sangro, con 1 miliardo e 81 milioni di euro, 679 dei quali provenienti dall'automotive, 402 e dal farmaceutico. Infatti due comparti contribuiscono in modo determinante a risalire la china. Quanto al complesso delle altre produzioni, in termini di incrementi, il 2023 ha visto un aumento del 2,6% dei due citati settori trainanti, la loro massa globale supera comunque il 50% del totale, con oltre 5 miliardi. In questo caso le migliori performance sono da assegnare ai prodotti alimentari, con 56 milioni in più e un incremento del 7%, al tessile e abbigliamento, 82, 20,1%, agli articoli in gomma e plastica, 33, 4,3%. Le variazioni dell'export nelle province abruzzesi sono state disomogenee, anche se hanno registrato tutte aumenti, con chieti di 647 milioni, l'Aquila di 301 milioni, Teramo di 178 milioni, Pescara di 83 milioni.